Luca Bazzoni, vicepresidente di Blue Volley Verona, una serata così ci voleva per chiudere una stagione storica per questa società? Direi che è fantastica perché abbiamo avuto una risposta molto soddisfacente, abbiamo parecchi sponsor, parecchie autorità, tantissima gente che ci vuole bene e ci sta seguendo. E questa sera lo stanno dimostrando con un affetto eccezionale, quindi una festa bellissima. Una festa bellissima con questa calzedonia che sembra essere veramente sul trampolino di lancio. Direi di sì, ci stanno dando una mano a migliorare sempre di più, ci sono sempre vicini, siamo molto contenti e quindi adesso sta passando Michele che mi sta facendo ridere. Comunque diciamo che siamo sul trampolino di lancio e continueremo su questa strada. Questa Coppa quanto aiuta questa società e quanto è importante per questa società? Diciamo che la Coppa è importante non solo per la società ma per la città di Verona e ci dà sempre più entusiasmo e quindi ci dà la carica per continuare e far sempre meglio per la prossima stagione. Grazie a tutti.